Mayu Watani ha sconfitto Mercedes Monet ed è la nuova IWGP Women's Champion. Signori, konnichiwa! Io sono Kirito e vi do il benvenuto sul mio canale. Adostar Grand Kingdom, Mayu Watani è diventata la terza IWGP Women's Champion della storia, sconfiggendo a sorpresa Mercedes Monet dopo un bel match lottato benissimo da entrambe le lottatrici. Mercedes Monet dunque che perde il titolo dopo soltanto una difesa a Sakura Genesis lo scorso 8 aprile in un three-way match contro Azuki e Azumi. Una Mercedes Monet che esce comunque a testa alta dal match contro Mayu Watani. Dimostrando di poter competere quasi alla pari con una delle migliori lottatrici del mondo. Una Mercedes Monet che dopo questa sconfitta pensa già al futuro. Futuro che la vedrà contendersi insieme a Willow Nightingale della AEW, a Stephanie Wanker della CML e a Momo Kogo della Stardom la possibilità di diventare la prima NJPW Strong Women's Champion della storia a Resurgence. Nel pay-per-view targato appunto New Japan Pro Wrestling in quel del 21 maggio. Tornando a Mayu Watani, quale sarà ora il futuro della nuova AEWGP Women's Champion? Da quello che abbiamo potuto notare, sembrerebbe che Nanae abbia messo gli occhi proprio su quel titolo, dopo aver perso i Goddess of Stardom titles in quel di All-Star Grand Kingdom, in favore di Mirai e Ami Sorei. Sarà lei dunque la prima avversaria di Mayu Watani? Quello che è certo è che Oramai è la terza AEWGP Women's Champion della storia, dopo Kairi e Mercedes Monet e il suo regno è soltanto all'inizio. Se il video vi è piaciuto, vi invito come sempre a lasciare un like, a iscrivervi al canale ed ad attivare la campanella per non perdervi video futuri. Dal vostro amichevole chirito di quartiere per oggi è tutto. Alla prossima! Matane!